Trapani, torture e abusi nel carcere, 11 agenti e domiciliari, 14 sospesi in totale, sono 46 gli indagati. Verifiche sui bed and breakfast a Palermo, il NAS ha chiuso tre strutture abusive dal valore complessivo di circa 3 milioni di euro. Lotta allo sfruttamento e al caporalato associazioni CGL lanciano la campagna Sicilia sfrutta zero. Nella giornata internazionale per i diritti dell'infanzia l'assessore Rosi Pennino ha parlato dell'iniziativa in favore dei minori a Palermo. Da domani e domenica il Taormina Food Expo 2024, l'evento giunto alla sua terza edizione è organizzato dalla CNA Sicilia. Bentrovati alla prima edizione di Media News in apertura. Trapani, torture e abusi nel carcere, 11 agenti ai domiciliari, 14 sospesi. In totale sono 46 gli indagati per la Wilpa, Polizia Penitenziaria. La crisi perdura da troppo tempo ed è ormai giunta al limite del baratro più totale e chiede misure tangibili. 25 poliziotti penitenziari accusati a vario titolo e in concorso di tortura, abuso di autorità contro detenuti del carcere Pietro Cerulli di Trapani e falso ideologico sono stati raggiunti da misure cautelari e interdittive. 11 arresti domiciliari e 14 sospensioni dal pubblico ufficio. Emessi decreti di perquisizioni per un totale di 46 indagati. Le indagini sono partite nel 2021 dopo alcune denunce effettuate dai detenuti del penitenziario trapanese che avrebbero subito maltrattamenti in luoghi privi di telecamere che una volta installata avrebbero registrato violenze arreterate da parte di agenti nei confronti dei detenuti. L'ordinanza del GIP di Trapani su richiesta della procura è stata eseguita dal nucleo investigativo regionale della Polizia Penitenziaria di Palermo con l'ausilio di alcuni reparti territoriali coordinati dal nucleo investigativo centrale. Sono ormai decine le indagini pressoché in tutta Italia a carico di appartenenti al corpo di Polizia Penitenziaria e centinaia gli agenti indagati sospesi al servizio e talvolta condannati. Ovviamente chi sbaglia, dichiara Gennarino De Fazio, segretario generale della UILPA, Polizia Penitenziaria, deve essere individuato e perseguito ma se a farlo anche solo in via presuntiva sono centinaia diventa evidente la patogenicità del sistema che non solo non protegge ma evidentemente favorisce addirittura induce all'errore. Non si può parlare di mele marce ma è la cesta marcia che fa imputridire tutto ciò che contiene. La crisi penitenziaria perdura da troppo tempo ed è ormai giunta al limite del baratro più totale. Non solo il sovraffollamento detentivo, sono oltre 15.000 i detenuti oltre alla capienza, le carenze organiche alla Polizia Penitenziaria, mancano più di 18.000 unità ma anche le deficienze organizzative e negli equipaggiamenti così come la sostanziale assenza di un vertice. Ci chiediamo se ci sia concretamente in tal caso di cosa si occupi il capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria il quale incidentalmente sarebbe anche il capo del Corpo di Polizia Penitenziaria. Urgono misure tangibili. Chi detiene le responsabilità politiche e amministrative conclude De Fazio intervenga tangibilmente altrimenti si faccia da parte. In qualche caso siamo certi, operatori detenuti, neppure se ne accorgeranno. Controlli straordinari della Polizia di Stato nel centro storico di Palermo per garantire maggiore sicurezza a residenti e turisti emessi tre d'aspo Willi per tre palermitani ai quali è stato notificato il divieto di ingresso agli esercizi pubblici ai locali di pubblico trattenimento. Controlli straordinari della Polizia di Stato nel centro storico di Palermo interessate diverse pattuglie che hanno presidiato e presideranno il territorio. Un'area visitata da rilevanti flussi turistici ai quali la Polizia attraverso la sua presenza garantirà più sicurezza. Il perimetro è l'area battuta dai pattugliamenti di Polizia, vigilanze dinamiche e posti di osservazione attraverserà il percorso Arabo Normanno, Piazza Villena, Via Macheda, Corso Vittorio Emanuele, Piazza Sant'Antonino, Piazza Giulo Cesare, Via Roma, Via Ruggero Settimo, Piazza Regalmici, Piazza Verdi, Piazza Castelnuovo, Via Cavour, Piazza Sturzo, Piazza Indipendenza, Palazzo d'Orlean e Via del Bastione. Il contrasto alla mala movida passa anche attraverso l'irrogazione di misure sanzonatorie o l'applicazione di misure di prevenzione atipiche quali il DASPO Willi. A tal proposito nel corso delle ultime ore la Polizia di Stato ha notificato tre provvedimenti di divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento con il DASPO Willi nei confronti dei tre palermitani, due quarantenni e un ventisettenne che si sono resi responsabili di gravi e illecite condotte che hanno turbato l'ordine e la sicurezza pubblica. I provvedimenti emessi dal questore di Palermo a seguito dell'attività infaccertativa sviluppata dalla locale divisione anticrimine della questura di Palermo sono volti a prevenire il verificarsi di disordini negli esercizi pubblici o di pubblico trattenimento, di tutelare la sicurezza pubblica, preservare le aree urbane dal degrado e contrastare i fenomeni di illegalità che pongono in serio pericolo la sicurezza pubblica e l'incolumità dei cittadini. Ancora cronaca verifiche su Bed and Breakfast a Palermo. I carabinieri del NAS hanno chiuso tre strutture abusive dal valore complessivo di circa 3 milioni di euro. I carabinieri del NAS di Palermo, nell'ambito della strategia mensile di contrasto agli illeciti commessi al settore ricettivo, alberghiero e della ristorazione, disposta a livello nazionale dal Comando Carabinieri per la tutela della salute, hanno eseguito controlli e strutture turistico-ricettive del capoluogo, finalizzate a verificare le condizioni igienico-sanitarie strutturali ed autorizzative, nonché il rispetto nelle norme igienico-sanitarie nella conservazione e somministrazione degli alimenti e bevande. Le irregolarità più frequenti hanno riguardato la mancanza delle prescritte registrazioni per l'avvio delle attività, carenze igienico-sanitarie e strutturali, insegne inadeguate, mancata applicazione delle procedure di autocontrollo aziendale, la mancata applicazione delle procedure inerenti alla rintracciabilità alimentare, l'ampliamento arbitrario dei locali e della disponibilità dei posti letti. Sottoposto a sequestro amministrativo tre strutture ricettive del valore di circa 3 milioni di euro, risultate completamente abusive perché sprovviste di autorizzazione. In un caso i militari hanno scoperto e sottoposto a sequestro amministrativo un apparente BNB del centro storico di Palermo, che in realtà celava un vero e proprio albergo con rilevante capacità ricettiva in quanto munito di 22 stanze e circa 100 posti letto da organizzare in base alle esigenze degli ospiti. Nell'ambito degli stessi controlli sono inoltre stati sottoposti a sequestro circa 60 kg di alimenti vari, del valore di circa 1.500 euro, trovati in cattivo stato di conservazione e privi della rintracciabilità alimentare e sono state elevate sanzioni amministrative per circa 15.000 euro. Lotta allo sfruttamento e al caporalato, associazioni e CGL lanciano la campagna Sicilia Sfrutta Zero. Vediamo di cosa si tratta. L'associazione Penelo Petra, le associazioni che promuovono appunto questa piattaforma Sicilia Sfrutta Zero, di cosa si tratta? Noi proponiamo che venga istituito in Sicilia, così come esiste per le cure sanitarie, anche un STP che permette ai migranti, anche irregolari, di rivolgersi ai servizi sociali di base, di avere accesso ai servizi sociali di base. Questo perché gran parte dello sfruttamento nasce dalla grande ricattabilità che subiscono i migranti irregolari e soprattutto dal fatto che in effetti è l'organizzazione criminale che offre a questi soggetti vitto alloggio anche se in situazioni veramente drammatiche e il lavoro anche se sfruttato. Allora noi crediamo che un libero accesso ai servizi sociali di base potrebbe permettere da una parte a queste persone di non essere ricattabili e coinvolgibili in attività criminali, dall'altra parte permette alle istituzioni di avere contatto con i soggetti più gravamente emarginati e a rischio per portarli alla regolarizzazione che in Italia è prevista ed è possibile perché abbiamo delle leggi che per i migranti irregolari che sono vitte sul tetto lavorativo riconosce un permesso di soggiorno. Dovessimo tracciare un bilancio sul fenomeno appunto dello sfruttamento e del caporalato? Guardi purtroppo il bilancio è un bilancio negativo perché noi abbiamo individuato 52 aree dove esiste in Sicilia lo sfruttamento e per sfruttamento ovviamente intendiamo il rispetto dei contratti di lavoro, delle norme di sicurezza, dell'alloggio, dei trasporti eccetera eccetera. Poi c'è il tema invece del caporalato che è l'intermediazione illecita di mano d'opera, per questo stiamo facendo queste proposte assieme a Lega Coppe, a Penelope, a Fattorie Sociali, Centro Piola Torre, Darci perché vogliamo chiedere con forza alla regione siciliana che si faccia parte attiva contro il caporalato, quindi contro la criminalità che si sostituisce allo Stato nell'intermediazione illecita di mano d'opera. Intanto abbiamo creato finalmente un cartello di associazioni, Lega Coppe Sicilia, l'Associazione Penelope, la CGL con la FLAI, il Centro Piola Torre, l'Arci regionale perché vogliamo impegnarci ora e per sempre nel difendere chi ha bisogno di lavorare e non essere sfruttato. Ci riferiamo alla questione dell'immigrazione che ha bisogno di essere sostenuta e non può essere una scusa per nasconderli e invece farli lavorare e sfruttati nei campi. Quindi la Lega Coppe che da sempre ha il suo DNA la lotta a qualunque tipo di sfruttamento, difende anche le aziende agricole, le nostre cooperative che applicano i contratti, che difendono la qualità del lavoro e vedono accanto aziende che invece sfruttano i lavoratori, sfruttano gli immigrati per poi dire magari che sono contro l'immigrazione. Via libera del Governo regionale al rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2023 in crescita agli investimenti e maggiori le entrate pari a 1,7 miliardi registrate in Sicilia. Via libera del Governo regionale al rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2023, il documento contabile presentato ieri in conferenza stampa a Palazzo d'Orlean dal Presidente della regionale Renato Schifani, dall'assessore all'economia Alessandro Danino e dalla ragioniera generale Ignazio Tozzo certifica una riduzione delle passività per oltre 3,1 miliardi di euro a fronte dei 435 milioni previsti, superando così di gran lunga quanto inserito nel bilancio di previsione. Il documento finanziario fotografa anche una crescita di investimenti del 44% con più di 2,6 miliardi di euro erogati, numeri più che positivi dovuti in particolare alle maggiori entrate pari a 1,7 miliardi registrate in Sicilia grazie alla crescita economica, all'aumento del cofinanziamento statale sulla spesa sanitaria, 200 milioni in più nel 2022 e 300 milioni nel 2023 e ai risparmi di circa 1,2 miliardi dovuti al contenimento della spesa delle società partecipate, degli enti controllati ai risparmi sulle locazioni passive, sul funzionamento degli uffici, sulle spese per l'energia elettrica per circa 200 milioni e alla rinegoziazione di 2,1 miliardi di mutui del MEF con cassa depositi e prestiti. Cultura liberale, guardare all'impresa, guardare a chi rischia, guardare al mercato. Le infrastrutture per noi sono strategiche ed essenziali, quindi senza migliori infrastrutture non migliora l'economia. Noi ce la stiamo mettendo anche tutta, ci vogliono dei tempi, stiamo puntando per esempio sul rilancio degli aeroporti, puntiamo molto anche sul turismo, anche questo è un investimento perché i dati sono estremamente confortanti, sono stati veramente eccezionali e convincenti nonostante il clima, nonostante tante peripezie che abbiamo vissuto. Fissare delle regole, mi confronterò col Presidente dell'Assemblea, mi confronto alle forze politiche, naturalmente delle regole quattro, delle regole generali che dividono i settori di intervento e anche un minimo di possesso di requisiti, di identificabilità e di sussistenza. Il rendiconto ha consentito di realizzare questo importante obiettivo di ripianamento quasi totale in larghissima parte del disavanzo grazie al fatto che sono entrate, come è stato detto prima, sono aumentate notevolmente le entrate tributarie, quindi i cittadini lavorano di più, le imprese lavorano di più, guadagnano di più, a parità di pressione fiscale aumenta il vettito delle entrate, ma dall'altro lato anche il sapiente utilizzo delle politiche di bilancio, cioè degli accantonamenti rigorosi che hanno consentito di coniugare, come ho sempre ribadito dall'inizio del mio insediamento, rigore e sviluppo e anche delle politiche virtuose in tema di indebitamento. Nella giornata internazionale per i diritti dell'infanzia l'assessore Rosi Pennino ha parlato dell'iniziativa in favore dei minori a Palermo. Ascoltiamola in questa intervista. Una giornata molto importante alla quale l'amministrazione comunale ha voluto dare un significato per il secondo anno consecutivo concreto. Quest'oggi infatti, proprio per ricordare e per portare avanti quello che è il significato importante di questa giornata, l'amministrazione comunale incontrerà le comunità alloggio per minori, i centri socioeducativi per disabili, portando avanti un'iniziativa concreta, cioè restituendo, applicando quell'articolo 31 della Convenzione ONU, il diritto al gioco ai bambini e agli adolescenti. Una dimensione importante è quello del diritto al gioco, all'aggregazione, alla spensieratezza. Una dimensione che sempre più si perde in una società che corre e in un mondo che non restituisce spazi adeguati ai nostri bambini e ai nostri adolescenti. Ed è per questo che in maniera concreta. Al di là di tutte le altre iniziative importanti che ci sono in città, che chiaramente aprono il focus della discussione sulla tutela ai diritti dei minori e degli adolescenti, noi abbiamo voluto, per il secondo anno consecutivo, portare avanti un'iniziativa concreta che restituirà ai bambini presenti nelle comunità alloggio, ai bambini e agli adolescenti presenti nei centri socioeducativi per disabili, il diritto al gioco attraverso il regalo di una serie di attività che si svolgeranno o all'interno del panorama delle manifestazioni natalizie, penso a Villa Filippina, o all'interno di attività con il Circo Pificio e l'Info Op, restituendo proprio attività laboratoriali e momenti di gioco e ancora altre attività che richiamano proprio al Natale e che richiamano le attività di gioco presenti e diffuse in città. Con questo gesto concreto noi oggi vogliamo testimoniare non solo la tutela sulla quale teniamo sempre l'attenzione alta di bambini ed adolescenti, ma anche la restituzione di una dimensione alla spensieratezza. Ecco, se dovessimo parlare di somme investite da quando lei è assessora? Le somme che fanno riferimento alla tutela sono somme che riguardano chiaramente la protezione dei minori, penso al grande filono delle comunità alloggio, poi ci sono le somme che noi mettiamo in campo ogni anno per le iniziative che riguardano l'estate, il Natale e ancora siamo operativi sul piano dell'EPS che guarda Pippi, una misura importante di prevenzione che interviene sulle famiglie e sui bambini e sugli adolescenti proprio per restituire percorsi e accompagnamenti alla genitorialità. L'amministrazione comunale investe milioni di risorse sulla tutela ma anche sulle iniziative concrete e infine tra pochissimo vedranno la luce i nostri spazi di prossimità per minori, adolescenti e famiglie che è un investimento di oltre 3 milioni di euro a valere della duot 5. Il progetto Reco Pet avviato in città nel mese di giugno da Corepla con il comune di Palermo e Rapp arriva pure all'Università. L'Ateneo di Palermo si è infatti dotato di tre ecocompattatori per intercettare anche tra gli studenti le bottiglie per bevande in pet. Siamo lieti che quest'oggi stiamo inaugurando tre mangiaplastiche nell'Università di Palermo in un percorso che stiamo facendo con la stessa università per incentivare la differenziata all'interno del plesso universitario che riteniamo che sia motivo di formazione della futura generazione onore a quello che è l'ecosostenibilità anche dell'ambiente e quindi incentiviamo anche in questi siti come abbiamo fatto in altri 30 punti in città la raccolta della plastica la plastica è una plastica virtuosa perché ottiene della materia prima ottima e che quindi questa è la strada che vuole fare il Rapp per la sostenibilità generale dell'ambiente a Palermo. inaugura oggi finalmente a Palermo in via delle scienze dentro i locali di Uipa la prima macchina mangiaplastica è certamente una giornata importante perché nel solco della sostenibilità e della transizione ecologica questa macchina permetterà ai nostri ragazzi ma anche a tutta la comunità accademica e amministrativa di poter riciclare la plastica attraverso un sistema di raccolta punti che potranno poi essere utilmente spesi iniziative e in fornitori di varia natura dallo sport l'informatica è uno dei primi passaggi verso un ateneo sempre più green sempre più pulito e soprattutto dove vogliamo dare che creare un'educazione al pulito è una cosa fondamentale i ragazzi lo sanno perfettamente che noi stiamo investendo risorse e mezzi in questo in questo tema ma finalmente avere la prima installazione ce ne sono già ben tre negli ambiti dell'università perché una è santiromano l'altra vicino economia da il senso proprio di un impegno massiccio che è proprio in questa tendenza di salvaguardare l'ambiente salvaguardare la natura chiude il cerchio su tutto un ciclo integrato della raccolta differenziata dei rifiuti ma soprattutto sull'interesse che l'università ha una serie di progetti ecologici di recupero e di benessere ma soprattutto di cultura di cultura del molto legata alla sensibilità dei ragazzi la cultura del recupero e in cui l'università crede moltissimo quindi diciamo è un ulteriore tassello che ci consente di andare avanti in questo tipo di attività presentato a palermo long life to micromobility iniziativa fortemente orientata al mondo dei giovani in particolare gli studenti universitari il progetto è finanziato dall'unione europea nell'ambito del programma life dedicato alla sostenibilità ambientale alla qualità della vita urbana obiettivo principale della misura è la promozione della micromobilità con l'utilizzo di veicoli elettrici leggeri come monopattini e biciclette elettriche soluzioni sostenibili per la mobilità urbana e periurbana il progetto è nato nell'ambito di attività che facciamo già da tempo nell'ambito della micromobilità urbana che in cui abbiamo iniziato anche con altri progetti in cui c'era lo sviluppo di veicoli lo sviluppo di speciali batterie e quindi è nata quest'idea di testare in diverse città italiane da una parte le batterie che sono batterie innovative non alle celle di litio per intendersi ma con dei supercapacitori ibridi che danno tutta una serie di vantaggi in termini di sostenibilità ma anche di usabilità siamo un gruppo di partner ampio con partner sia di palermo sia di altre città e per fare una dimostrazione su un gran numero di veicoli perché qui parliamo di oltre quasi 300 veicoli che gireranno in queste città e quindi per fare avere una dimostrazione anche in situazioni diverse perché per esempio all'aquila che è una delle città coinvolte abbiamo un territorio molto in salita in discesa quindi con delle caratteristiche peculiari a palermo invece abbiamo una città pianeggiante con un clima ottimo tutto l'anno e poi abbiamo firenze perché è più simile a palermo come città è un po meno calda ma insomma è la sede diciamo così del coordinamento del progetto e quindi la testeremo anche a firenze una città come palermo necessita di tante modalità di trasporto dal trasporto pubblico collettivo all'auto privata ma se vogliamo andare incontro alla sostenibilità della mobilità dobbiamo tendere naturalmente a lasciare l'auto privata e optare per mobilità alternativa a palermo ci sono piste ciclabili c'è una rete che attualmente conta circa 50 chilometri di piste però sono poco visibili ce ne sono soltanto alcune come la dorsale dante praga che è molto visibile le altre necessitano di essere retrofittate ed ampliate stanziati con i fondi della pnr 90 mila euro per realizzare menza e cucina scolastica nell'istituto comprensivo montessori di calta girone vediamo nell'ambito del pnr missione 4 abbiamo partecipato all'avviso pubblico del dicembre 2021 con scadenza 28 febbraio 2022 per la realizzazione di menze scolastiche il nostro progetto riguarda il plesso montessori dove esisteva già una cucina mensa però da tempo dismessa e dunque da riqualificare e mettere in sicurezza la nostra proposta è stata approvata per un finanziamento di 90 mila euro questa per noi è un'ottima notizia perché attraverso questo finanziamento potremmo realizzare il primo step verso le cucine interne alle scuole così da poter preparare sul momento i pasti che saranno serviti ai nostri bambini subito dopo la cottura evitando dunque quei pasti preparati molto molto tempo prima e trasportati a scuola dall'esterno in contenitori di plastica in questo modo noi potremmo garantire ai nostri bambini una alimentazione sana salutare con prodotti del territorio a chilometro zero e inoltre andremo ad abbattere quella grande quantità di rifiuti che è rappresentata dai contenitori in plastica monoporzione che vengono utilizzati per il trasporto dei pasti dall'esterno inoltre cercheremo nuovi finanziamenti per poter estendere questa opportunità anche agli altri plessi scolastici cittadini FIAIP è il punto di riferimento per tutti i professionisti del settore immobiliare fra le tante iniziative della federazione italiana agenti immobiliari professionali anche la rilevazione e la presentazione dei dati sull'andamento del mercato immobiliare urbano è turistico lo studio prende in esame i dati consuntivi fornendo gli orientamenti e le tendenze future del mercato nel medio periodo ascoltiamo il presidente marco burrascano presidente spieghiamo cos'è innanzitutto la FIAIP e perché dovremmo rivolgerci a questa federazione? FIAIP è federazione italiana agenti immobiliari professionali metto l'accento sulla P di professionali perché ci contraddistingue quindi cercare di rivolgersi un'agenzia immobiliare professionale significa avere una sicurezza di un servizio all'altezza quindi una modulistica aggiornata senza clausole vessatorie una due diligence che porta a una sicurezza della transazione assolutamente all'altezza con quello che poi è il servizio che il mercato oggi richiede. Ma come sta andando il mercato delle vendite immobiliari? Ricordo nel 2023 Palermo si è chiusa con 6.400 transazioni quindi un numero comunque importante il 2024 ha avuto diciamo quel contraccolpo dovuto ancora diciamo i primi mesi durante i quali i tassi interessi erano un po' altini. Poi ci siamo ritrovati una modesta fiducia da parte dei consumatori e delle famiglie si è aumentata quindi la richiesta di case quindi c'è sicuramente stato un recupero in questi ultimi mesi. Chiaramente la città andrebbe divisa per zone perché abbiamo un centro storico vivace sempre più vivace con apprezzamenti dei valori anche importanti per alcune caratteristiche va molto bene ville, villini, questo è un po' un trend che ci portiamo come eredità probabilmente dal post-Covid e poi tutta la fascia costiera quindi andando anche in provincia tutti quei paesi che ci affacciano sul mare stanno un po' riscoprendo un risveglio dal punto di vista immobiliare. C'è stato un evidente boom di locazioni brevi qual è il suo parere in merito? Il mio parere è che la locazione è breve ad uso turistico e voglio distinguerla da quella che è un'attività imprentoriale come B&B, case vacanze quindi cerchiamo insomma di dare la giusta connotazione è sicuramente in aumento. Una città come Palermo che si è riscoperta turistica tutto l'anno quindi sicuramente c'è molta attrattiva, il centro storico la fa da padrone e chiaramente l'aumento dei grossi turistici rende attrattivo anche l'investimento immobiliare. Le redditività sono interessanti, è vero, non possiamo negarlo è anche vero che però i motivi per i quali si sceglie la locazione breve ad uso turistico spesso riguardano diciamo delle dinamiche un po' differenti come l'assenza per esempio del rischio di morosità piuttosto che l'uso promiscuo dell'immobile quindi avere la possibilità di poter utilizzare personalmente la propria seconda casa in qualsiasi momento possono essere determinanti. Da un punto di vista di numeri sono le strutture in aumento non sono più appannaggio solo del centro storico e delle fasce costiere. Se facciamo una ricerca, un censimento, vediamo che gli appartamenti destinati all'uso breve sono disponibili un po' dappertutto anche in zone periferiche della città. E parliamo di eventi da domani a domenica prossima avrà luogo il Taormina Food Expo 2024 l'evento giunto alla sua terza edizione organizzato dalla CNA Sicilia. Da domani a domenica il Taormina Food Expo 2024 presso il Palazzo dei Congressi della città Ionica l'evento giunto alla sua terza edizione organizzato dalla CNA Sicilia con il contributo è l'assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea. Una Kermess che vedrà la partecipazione di più di 50 aziende, organizzazioni e personalità nel settore delle istituzioni locali, nazionali ed internazionali tra cui la Malta Food Agency e il ministro dell'agricoltura maltese Anton Refalo e il presidente del Parlamento maltese Angelo Farrugge. Saranno quattro giorni dedicati alle eccellenze dell'agra alimentare mediterraneo scanditi da dibattiti, show cooking, animati da una ricca delegazione di chef maltesi e insieme agli chef siciliani dell'Unione regionale Cuochi Siciliani presieduta da Angelo Sedita. Questa manifestazione, affermano Piero Giglione e Nello Battiato, rispettivamente segretario e presidente della CNA Sicilia, si inquadra nell'ottica del contributo che la CNA Sicilia e la CNA Agroalimentare Sicilia intendono sviluppare nell'ambito delle iniziative che la Regione Sicilia sta mettendo in campo nell'ambito del programma Sicilia-Regione Europea della Gastronomia 2025. Venerdì prossimo a Palermo d'Artetica verrà inaugurata la mostra dal titolo Ti Leggo contenente 31 opere realizzate dall'artista Salvo Nero. Venerdì prossimo alle ore 18.30 a Palermo d'Artetica verrà inaugurata la mostra dal titolo Ti Leggo realizzata dall'artista Salvo Nero. Perfetto ma non troppo è la caratteristica principale delle 31 opere della mostra che ha come obiettivo comunicare gli stati d'animo dell'artista realizzata in varie misure, su tela, su carta e una piccola scultura. Uovo al tegamino, lampadine, mandarini, pacchi di posta e oggetti quotidiani diventano arte in queste opere. La mostra con ingresso libero, che terminerà il 7 dicembre, sarà visitabile da lunedì al sabato, dalle 10 alle 13 e dalle 16 e 30 alle 19. E sempre a Palermo, a Villa Niscemi, a Sovini, l'associazione di vitivinicoltori siciliani, che riunisce 100 aziende vitivinicole con l'obiettivo di promuovere il vino siciliano di qualità nel mondo, ha presentato il report curato dall'Università di Messina. A Sovini Sicilia è un'associazione di 100 produttori, ora siamo 100, eravamo 8, è stata fondata da Diego Planeta, Giacomo Rallo e Lucio Tasca, padri fondatori della nostra associazione, che hanno creduto fortemente nel valore dell'associazionismo perché solamente insieme siamo una squadra vincente. portare il brand Sicilia in giro per il mondo come un continente vitivinicolo alla Sicilia, è quindi fatta da diversi territori, dalle diverse aziende, dalle diverse persone, questa è stata la strategia vincente per farci conoscere in giro per il mondo. Ora le nostre 100 aziende sono proiettate verso il futuro, verso nuovi obiettivi, verso la sostenibilità, verso l'enoturismo, verso le nuove generazioni, un'associazione sempre dinamica, in movimento, capace di raccontare e raccontarsi in modo da potersi fare conoscere in giro per il mondo. Quest'anno la nostra associazione festeggia i suoi 25 anni e fortemente per questo motivo ho voluto fare una fotografia su dove eravamo e dove siamo arrivati per andare anche a guardare cosa ci aspetta il futuro e questa è l'idea di questo report, di questo sondaggio fatto e commissionato all'Università di Messina, hanno risposto 80 aziende su 100 dei nostri associati ed è un gran numero per far capire cosa ci aspetterà e quali sono i nostri obiettivi futuri, quali la sostenibilità, l'enoturismo, il cambio generazionale della transizione digitale. Non ci sono altri aggiornamenti, grazie per averci seguito. Appuntamento con le prossime edizioni di Media News. Grazie. 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 Grazie.